Allora eccoci di nuovo in studio, adesso affrontiamo un altro argomento, il riconoscimento di figli di coppie gay. Ci colleghiamo subito con Fabrizio Marrazzo che è il portavoce del partito gay LGBT. Buonasera Marrazzo. Buonasera a voi. Allora, che vogliamo dire subito su questa storia del riconoscimento dei figli di coppie gay, qual è lo stato attuale e quali dovrebbero essere i cambiamenti? Allora, lo stato attuale è che ad oggi non c'è nessun riconoscimento per i figli delle coppie gay, ad eccezione di quanto i singoli tribunali vanno a riconoscere e quindi noi abbiamo da un punto di vista una situazione assurda, cioè i tribunali riconoscono dei diritti e poi abbiamo la circolare madre e padre di Saldini che ad esempio ne dieta l'utilizzo dei diritti dei genitori sulle carte d'identità. Banalmente, se un bambino ha due padri o due madri, sulla carta d'identità potrà assegnare solo un padre o una madre. Quindi questo cosa significa? Che se il bambino deve andare all'estero, potrà andare solo con il genitore che sta sulla carta d'identità, oppure in ospedale potrà intervenire solo uno dei due genitori. In questo modo vengono privati i bambini di diritti, il Tribunale di Roma ha detto che questa norma è illecita e il governo adesso sta ricorrendo. Inoltre c'è una direttiva europea che invece invita i governi a legiferare in tale direzione e purtroppo il Presidente della Commissione che marchio lega con tutta la maggioranza di centrodestra hanno fatto una mozione di maggioranza che va a bocciare questa direttiva e quindi a dire che non sarà applicata in Italia con la scusa che questa direttiva potrebbe portare in Italia alla gestazione per altri, che non c'entra assolutamente nulla con questo. Allora, come al solito ci dobbiamo riferire all'Europa, l'Europa che cosa fa in questo senso? Cioè come si muove? Quali sono i regolamenti degli altri paesi europei? Perché so che insomma voi vi documentate, vedete, perché portate avanti delle battaglie importanti, ecco. Allora, in l'Italia purtroppo nell'Europa allargata è al 35esimo posto, quindi siamo proprio tra gli ultimi. Addirittura prima di noi c'è anche la Grecia, quindi insomma siamo proprio messi male. In tutti gli altri paesi, quindi se togliamo i paesi dell'est come Romania, Polonia, Ungheria forse aveva anche più diritti di noi perché loro hanno unioni civili da molti più anni di noi e siamo molto indietro perché in Spagna c'è il pieno riconoscimento, in Olanda il pieno riconoscimento c'è dagli anni 90, è stato il primo paese con il matrimonio e il riconoscimento dei figli e così come anche poi in Inghilterra. Ad esempio ne abbiamo avuto che in Inghilterra il riconoscimento è addirittura avvenuto da un governo di centrodestra che con Cameron, lui disse che essendo il loro partito un partito per la famiglia tradizionale, loro volevano che gay non avessero unioni civili ma avessero il matrimonio perché la tradizione inglese è quella del matrimonio che quindi andava esteso anche alle coppie lesbiche e gay, quindi per dirvi e così poi anche in Germania è stato fatto sempre da un governo, peraltro anche di destra, quindi con la Merkel, con i popolari è stato approvato il matrimonio e così in tutti gli altri paesi, anche la Spagna che poi nel 2008 con Zapatero fecero il matrimonio egalitario, quindi questo è uno spettro molto 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 ampio dove noi siamo molto indietro, infatti c'è il paradosso che molti dei nostri vanno ad adottare bambini in Spagna, in Francia e da altre parti e poi hanno certificato dove entrambi sono genitori, poi arrivano in Italia, segue una coppia adotta un bambino all'estero ed è eterosessuale, quel certificato viene riconosciuto, quindi il padre e la madre anche se non sono genitori biologici, se invece sono due genitori dello stesso sesso, quel certificato non viene riconosciuto, non si capisce in base a quale principio. Resto senza parole, no? Intanto perché la ritratezza italiana, ma che sarà che ci impedisce di essere un po' normali, forse il Vaticano? Ma sicuramente diciamo un retaggio di carattere culturale, religioso, ma diciamo che poi in realtà noi abbiamo che i dati ci dicono che oltre il 60% delle persone che si definiscono cattoliche sono favorevoli al matrimonio e all'adozione per le coppie gay, il problema sono gli ambienti clericali o le gerarchie clericali che sono contrarie. Il Papa Francesco ha dato delle aperture che però anche queste aperture dalla maggior parte della gerarchia non vengono viste e anche la classe politica va molto molto indietro purtroppo, insomma se pensiamo che lo slogan di Giorgia Meloni era quella di ribadire che lei era una madre eterosessuale, tra l'altro neanche sposata in chiesa, ma neanche sposata proprio, quindi diciamo che insomma poi loro vogliono essere tradizionali quando gli fa comodo, molti di loro hanno 3-4 matrimoni, figli fuori matrimoni e poi sono tutti diciamo in teoria casa e chiesa e poi fanno altro, in realtà la società è libera e aperta, ci sono molte forme di famiglia che vanno riconosciute tutte e poi ai bambini, a tutti i bambini vanno dati gli stessi diritti, indipendentemente dalla famiglia in cui nasce, ve ne dico una, in queste settimane c'è la festa del papà e in molte scuole stanno organizzando delle feste per i padri, i bambini che hanno due madri gli hanno detto che la madre non può andare in sostituzione perché sono delle madri e quindi non possono sostituire i figli e così come per la festa della mamma c'è capitato che quando c'è la festa della mamma vengono invitate entrambe, vengono invitate le mamme ma chi ha due papà invece non può andare con i propri papà e addirittura ai bambini gli viene chiesto ma perché tu non hai un papà o perché non hai una mamma, cioè i problemi li fanno venire i… Sono loro che li fanno venire i bambini, li fanno venire con questi atteggiamenti, perché come diceva Benjamin Franklin, i bambini sono un libro bianco dove tu puoi scrivere quello che vuoi, giusto? Se tu tratti un bambino così, no? Che ha due mamme o due papà e non permetti a uno dei due di andare alla festa della mamma o del papà anche se non è il sesso che festeggia, gli crei un trauma, ma qual è? Ma quale… Vabbè io non lo capisco, non lo capisco e mi indigno anche perché i bambini hanno diritto a essere sereni, sia con due papà o che con due mamme o con papà e la mamma, il bambino deve stare sereno, ha una sua famiglia, capisce tutto, gli viene spiegato tutto e quindi deve crescere in serenità. La società non gli può mettere i paletti, questa è una cosa che non va bene, perché allora preferiamo vedere i bambini dentro gli orfanotrofi, ci siete mai andati a vederli come stanno? Allora io vi sfido a vedere un bambino che cresce non un fanotrofi o invece un bambino che cresce o con due mamme o con due papà. Quel bambino lì con due mamme due papà è sereno, poi può succedere la coppia che litiga, ma pure in quelle etrosessuali, cioè i problemi possono averli tutti, ma non è il sesso che fa la differenza, è il clima d'amore che gli creiamo intorno al bambino. Ma poi vi dirò di più, le coppie, tutti i bambini che crescono nelle famiglie omogenitoriali, visto che in tutti quei casi c'è un forte intervento dei servizi sociali, è molto difficile che quei bambini abbiano una famiglia che comunque non li tratti bene, perché c'è una fortissima attività, ad esempio per riconoscere oggi un bambino in una coppia omogenitoriale si deve passare attraverso quella che viene chiamata la stepchild o l'adozione in casi particolari e quello è un processo che significa che il bambino deve passare per due o tre anni sotto la sorveglianza degli assistenti sociali, cosa che tutti gli altri bambini... Due o tre anni? No scusa, ho capito bene, due o tre anni con gli assistenti sociali? Sì, sì, che viene tenuto sotto osservazione, invece un bambino che nasce anche adottato in una famiglia etrosessuale nel momento in cui viene chiesto il riconoscimento dell'altro compagno avviene in automatico, nel nostro caso devono essere supervisionati per due o tre anni dagli assistenti sociali e quindi ovviamente sono anche casi che sono maggiormente monitorati e quindi una volta che vengono assegnati in modo definitivo sono delle famiglie più sicure e comunque dove c'è un luogo che è stato verificato, per tutti gli altri casi invece non ce la verifica perché si dà per assodato che la famiglia etrosessuale è perfetta e poi leggiamo sui giornali le cronache di padri che picchiano le madri, che uccidono i figli e quant'altro, quindi insomma... Allora già voler adottare un bambino è un grande gesto d'amore, enorme, no? Se tu le persone che vogliono fare questo, sia uomo, donna, quello che vi pare, ma persone parliamo sane, persone normali, persone che si amano, tu gli metti di fronte tre anni di assistente, ma che stanno in galera? Cioè tre anni l'assistente sociale deve entrare nelle loro vite e vedere se è una vita normale perché sono due uomini e due donne, invece nelle famiglie etero l'affidamento va e basta. Perché? Cioè questo non è giusto. Questo è proprio l'elemento discriminatorio. Noi per questo come partito gay abbiamo lanciato l'anno scorso un referendum. Referendum che però ha la difficoltà perché quando vengono raccolte le firme poi molti comuni si dimenticano di mandarci i certificati. Noi ad esempio con il referendum sulla caccia che abbiamo fatto in analogia l'anno scorso, alle firme che i comuni ce le devono mandare per legge, entro 24 ore sono arrivate dopo un anno. Ovviamente il referendum è saltato. Quindi noi adesso chiediamo ad esempio a chi come alcuni partiti, come la SLAIN dice che a favore del matrimonio, siamo felici, diciamo il PD oggi governa in quattro regioni. In queste quattro regioni possono approvare il referendum sul matrimonio ugualitario e poi c'è una quinta regione che potrebbe essere Molise che va adesso al voto e anche se lì nella quinta regione viene approvato il referendum sul matrimonio ugualitario, i cittadini italiani l'anno prossimo potranno liberamente votare sul referendum. Sondaggi ci dicono che oltre il 50% degli italiani è favorevole al matrimonio ugualitario per le coppie lesbiche e gay, dando parità di diritto ai figli. Quindi chi dice di essere favorevole? Il PD fino a ieri non era favorevole, oggi è favorevole perché sa che c'è il governo di centrodestra, cioè non sono riusciti a far passare una legge contro l'omofobia, adesso sono favorevole al matrimonio. Ci vogliamo credere, ci fa piacere, però da un punto di vista parlamentare i numeri per il matrimonio non ci sono. Da un punto di vista regionale si accettano la nostra sfida di fare il referendum, loro governano in quattro regioni e poi dobbiamo anche dire che nella regione Emilia Romagna è l'unica regione in Italia, peraltro progressista, di sinistra e quant'altro, che ha la norma che vieta alle madri lesbiche di fare la fecondazione assistita, con una norma più restrittiva della norma nazionale. Già oggi non è possibile da un punto di vista nazionale, ma chi lo fa nella regione Emilia Romagna, se chiede aiuto a qualche associazione, l'associazione che l'aiuta viene sanzionata e multata gravemente dalla regione Emilia Romagna, sino anche che l'associazione rischia di perdere la sede e tutti i fondi. Norma che non esiste neanche nella regione Veneto, che ha guida da destra da sempre o dalla regione Lombardia, quindi anche questi partiti progressisti dovrebbero fare un po' pace con se stessi, cioè dire la realtà. Allora, non sono riusciti a far passare una legge contro l'omofobia, adesso che c'è al governo la destra parlano di matrimonio. Va bene, li sfidiamo. Nelle regioni, in Emilia Romagna, aboliscono la norma contro la procreazione medicalmente assistita rivolta alle coppie lesbiche, quindi lasciano la norma nazionale che già la vieta, ma non peggiorano una norma nazionale e questo già sarebbe un passo avanti. E poi, sempre nelle regioni del governo, ci stanno a fare il referendum, io sarei felice che qualcuno mi desse una risposta e capire se quindi le loro domande, le loro proposte sul matrimonio siano reali o meno, si misurano così. Senti, io non so se hai avuto questa impressione, ma insomma, la Shrine su questo mi sembra molto combattiva e molto accogliente. Credo che non si farà da meno ad accogliere le vostre richieste e cercare di portarle anche in Parlamento. Non fosse anche per il fatto che lei ha dichiarato di essere gay, anche lei, quindi vuole rappresentare anche i diritti che sono sacrosanti e che hanno... Le persone hanno diritto di fare una vita normale, come tutti, cioè non è possibile che l'adozione c'è A e B, a secondo di che sesso la richiede. Non va bene questo, ci deve essere un canale per tutti, anche perché se io fossi al posto di una coppia gay e so che per avere un bambino devo affrontare tre anni di assistenti sociali, che già la parola mi mette i brividi, può essere pure che io ci ripensi, non vorrei che questo fosse un deterrente per far frenare le adozioni, perché poi qui se le inventano tutte. Sicuramente diciamo l'affido dell'adozione in casa particolare per le coppie gay è molto estricile e ci vuole un grande impegno. Ma dall'altro lato, per quello che riguarda la Shrine, io mi auguro che sia favorevole, però dobbiamo ricordare che lei era la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna in cui c'è l'unica norma in Italia discriminatoria per le coppie lesbiche che vogliono avere figli. E lei non ha raccolto niente, cioè non ho seguito sinceramente il suo percorso in Emilia-Romagna, non ha raccolto niente di sue posizioni in merito? No, lei non ha detto nulla. Ah, non ha detto nulla? Non si è pronunciata, non ha neanche, io posso capire che tu da vicepresidente non hai la forza di far abolire quella norma, perché l'ha voluta la tua maggioranza, però almeno dire una dichiarazione che tu la reputi inopportuna e che forse andrebbe cambiata, io non l'ho sentita. Mi auguro che adesso che lei è la segretaria indiscussa con il successo che ha avuto alle primarie, abbia la forza di partire dalla sua Regione, che è la Regione Emilia-Romagna, a togliere quella norma discriminatoria in cui lei è stata vicepresidente per oltre un anno e poi successivamente fare un'azione, come vi dicevo prima, di sostenere il referendum, perché è facile oggi dire facciamo proposte di legge, c'è un governo di centrodestra che non le vuole, quindi che le fa fare queste proposte di legge? Non l'avete fatto passare? È importante la tua presenza Marrazzo, perché io sfido tanti cittadini italiani, questa trasmissione si vede benissimo in tutta Italia. Chi lo sapeva che c'era questa norma discriminatoria proprio in Emilia-Romagna? Io credo pochi. E adesso che lo si sa, a maggior ragione, deve essere fatto qualcosa. Lashline, se ci ascolta, ma credo, se non lei, qualcuno per lei, perché abbiamo avuto tanti esponenti del partito e soprattutto della mozione Shrine e sicuramente ci ascoltano. Allora ci dovete far vedere l'impegno anche in questo. È importante, diteglielo, perché dato che c'è una mozione negativa, proprio in Emilia-Romagna, dove lei era vicepresidente, adesso che lo abbiamo saputo, si deve muovere lashline, si deve muovere affinché venga eliminata, altrimenti su tante sue battaglie, tante sue risate, cominciamo a non crederci più. Allora, dato che lei all'inizio deve dimostrare il suo vigore, il suo essere battagliera, il suo essere gay, la sbandierate 420, lei per i diritti gay. Ecco, cominciamo dall'Emilia-Romagna, che noi questa cosa non la sapevamo, adesso la sappiamo e vogliamo vedere un impegno, perché non è possibile che succeda quello che ci sta dicendo Marrazzo, che è dentro e quindi sa bene come si svolgono le cose. Quante sono le richieste di adozione da parte di coppie dello stesso sesso? Allora, ad oggi in Italia ci sono oltre 150.000 bambini che vivono in coppie omogenitoriali, quindi questo è il dato. Oggi ci sono 150.000 bambini che hanno genitori che hanno lo stesso sesto. Poi le domande non ci possono essere, perché le coppie omosessuali non possono fare domanda, ma per adottare, come si chiama adozione in caso particolari, devono o avere il bambino che è già figlio di uno dei due, oppure devono conoscere il minore, quindi ad esempio il minore è di una, loro hanno un rapporto con questo minore perché è il figlio della vicina o conoscono il caso di quel figlio. Quindi non lo possono prendere da un'adozione normale da un orfanotrofio? No! No, no! Ah, deve essere di conoscenza! Eh sì, perché si chiama adozione in casi particolari, oppure possono fare l'affido, però l'affido dura 5 anni e non ben detto che ti porti all'adozione. E poi, diciamo, i casi che capitano, purtroppo, sono soltanto quelli dei bambini che superano i 12 anni, perché dobbiamo sapere che in Italia i bambini negli ex orfanotrofi, che poi oggi si chiamano case famiglia, ma sono comunque uguali agli orfanotrofi, non sono cambiati, ho cambiato il nome, ma... È cambiato il nome, ma la forma è la stessa, dico orfanotrofi, sai perché? Perché l'opinione pubblica lo ricepisce prima, case famiglia, alcuni pensano altre cose, sono i vecchi orfanotrofi. Esatto, sono uguali, non sono cambiato nome e praticamente, diciamo, questi bambini hanno una tariffa di 120 euro al giorno, superati i 12 anni la tariffa passa da 120 a 75, quindi i bambini dopo i 12 anni più facilmente vengono magicamente dati in adozione. Il problema è che prendere un adolescente di 12 anni, molto spesso anche disabile, è molto complicato e quindi ovviamente poi questi bambini rimangono in orfanotrofi, indipendentemente se la coppia è eterosessuale o omosessuale e agli omosessuali in genere si offrono i bambini che hanno maggiori difficoltà e anche lì, insomma, è vero che ci sono persone che hanno più cuore, però anche questo poi diciamo diventa un po' un elemento che comunque ulteriormente è discriminatorio che allora se uno vuole un figlio deve dimostrare di averci più cuore degli altri, se poi non prendi il bambino disabile e sei una coppia omosessuale allora poi vuoi discriminare. In realtà la coppia omosessuale deve avere gli stessi diritti, quindi chi se la sente di crescere un bambino disabile ha tutto l'apprezzamento di tutti, ma non tutti abbiamo la forza di poter avere questa medaglia, perché crescere un bambino disabile è complicato, quindi anche alle coppie lesbiche gay va data la stessa opportunità, poi chi vorrà diciamo aiutare un bambino disabile meglio, però non si può dire, a me in molti casi mi sono capitati assistenti sociali che dicono no, noi gli abbiamo proposto un bambino, sì gli avete proposto un bambino con due o tre disabilità di dodici anni, ovviamente non è che la coppia insomma non è pronta, ma vi sfido che in realtà quel bambino non lo vuole adottare nessuno, quindi non mi potete dire che quella coppia gay ha avuto la sua opportunità, perché vi è dato un'opportunità che è troppo complicata, ma perché poi non ha gli strumenti, quindi chi adotta quel tipo di bambino deve essere convinto, ma soprattutto deve avere anche gli strumenti. È brutto dirlo, però se fossimo in un'altra società dove poi ci sono i mezzi a disposizione per crescerlo, parlo di strutture sanitarie, di accoglienza, di non discriminazione, sarebbe anche più semplice, ma con la società attuale in cui viviamo, dove non c'è proprio il necessario nella sanità, tirare su un bambino con disabilità è veramente molto difficile, anche se ti piange il cuore dire che ovviamente vengono adottati con più difficoltà, però per chi prende un bambino disabile dei problemi ci sono e quindi… È veramente impossibile perché purtroppo il bambino disabile se sta in una struttura pubblica almeno ha la garanzia di un'assistenza H24, cosa che una famiglia normale, anche quando il bambino disabile supera i 12, 13, 14 anni, purtroppo non è autonomo, quindi tu dovresti avere una famiglia che gli garantisce un supporto H24 a vita e questo comunque è complicato perché in Italia questo supporto non c'è, anche la legge sul topo di noi, che è una legge positiva in tale sostegno, ad oggi non è stata ancora pienamente applicata e va anche ampliata, quindi noi se abbiamo un bambino disabile oggi o la famiglia ha la facoltà economica di garantire un'assistenza a vita naturale durante a questo bambino, se no i due o trecento euro di assegno che hanno al mese non servono poi per il bambino e quando il bambino diventa maggiorenne non può lavorare con tre o quattrocento euro, ma come campa, che pure disabili, quindi è anche una questione un po' diciamo di difficoltà e di ipocrisia che in Italia va, il tema delle adozioni va liberato così come anche il tema del supporto per le persone diciamo disabili, di cui se ne parla tanto, hanno fatto in passato anche un ministero, però poi alla fine concretamente è tutto... Appunto, Antonio? Sì, abbiamo trovato un'intervista all'onorevole Zanne che Marrazzo conosce sicuramente e dice proprio questo, di ieri su Repubblica con Schlein si riparte dai nuovi diritti, le unioni civili non bastano più sì ai matrimoni gay e per il partito la piena eguaglianza è il tema centrale, quindi questa intervista la salviamo, insomma ce la leghiamo al fazzoletto, la teniamo da parte, insomma, no? Ah, oddio, io volevo sentire questa intervista, semmai nella passata legislatura che avevano la maggioranza, quando lo stesso Alessandro Zan, dobbiamo ricordare che ha fatto la legge contro l'omofobia, ricordo che la legge contro l'omofobia di Alessandro Zan era di un solo articolo, poi io con la senatrice Maiorino abbiamo presentato una legge di oltre 18 articoli e poi siamo arrivati al testo di 10 articoli e dobbiamo ricordare che Alessandro, che conosco benissimo, ha fatto due norme discriminatorie sulla legge contro l'omofobia, che sono uno l'articolo 4, che praticamente cosa succede? Se oggi dico che un nero o un ebreo sono inferiori, io o malati o quant'altro li discrimino, commetto un reato penale, se io invece lo vado a dire per le persone omosessuali, secondo l'articolo voluto da Alessandro Zan, questo non è discriminatorio perché praticamente fa parte della mia cultura. Allora cosa significa? Che se in Italia arriva il Ku Klux Klan che pensano che i neri sono inferiori e devono bruciare, possono dire che i neri sono inferiori e devono bruciare? No, perché è reato. Oggi chi offende ad esempio la senatrice che viene discriminata perché è ebrea, in quel caso direttamente viene punito con la legge Mancino, invece nel nostro caso con la legge contro l'omofobia una persona omosessuale non sarebbe stata punita. Altro elemento negativo nella legge, noi nella legge abbiamo scritto che l'omofobia si combatte partendo da contrastarla all'interno delle scuole e Alessandro ha preso lo stesso articolo nostro facendo però una piccola modifica che in realtà si può partire dalle scuole, però le scuole per fare un corso contro l'omofobia lo devono organizzare tre anni prima e poi dopo averlo organizzato tre anni prima devono poi lo fanno soltanto a quei figli i cui genitori prima che inizia la scuola vanno a scuola a dire sì io voglio che mio figlio fa il corso contro l'omofobia quindi praticamente i corsi come li aveva previsti Alessandro Zan non li avrebbe fatti nessuno oppure se nella scuola lo voleva fare. Oggi invece cosa succede? Se io vado a scuola e c'è un episodio di omofobia la scuola mi dice sì voglio fare un corso contro l'omofobia o no e da domani quel corso parte e lo fanno tutti poi se la scuola mi dice di no purtroppo non va avanti e invece con la legge che voleva Alessandro tornavamo indietro quindi pure lì e insomma nella passata registratura hanno fatto questo pasticcio adesso è facile con un governo di centrotesta dire vogliamo il matrimonio e le adozioni ma prima che avevate i numeri non avete neanche fatto passare uno straccio di diritto adesso che non avete i numeri volete fare tutto io sono disponibile però il PD con Alessandro Zan possono partire dalle regioni dove governano che sono Emilia Romagna, Campania, Puglia e sono altre sono quattro in totale regioni dove loro governano e presentano la proposta sul matrimonio qualitario poi se vincono il Molise che dovrebbero fare la coalizione con i Cinque Stelle da quanto si apprende sui giornali anche il Molise con la quinta regione porta il referendum in Italia allora c'è il cambiamento però è facile oggi con un governo di centrodestra dire vogliamo il matrimonio e lo può pure presentare la legge ma sai che non c'è i numeri valla a fare nelle regioni dove governi c'è una maggioranza del 60 70 per cento cioè nel in Emilia Romagna nel 60 per cento hanno fatto una legge mofa quindi quello che rimando da Alessandro Zan e a Ellis Line e a tutti insomma le persone che si dicono oggi favorevoli ai diritti partiamo dalla regione Emilia Romagna abolite la norma discriminatoria contro le coppie lesbiche la PMA e anche poi contro le coppie gay sulla gestazione per altri abolite quelle due norme una volta che avete abolito quelle due norme poi passiamo a proporre il referendum sul matrimonio qualitario nelle vostre regioni se lo fate allora siete credibili bene Fabrizio Marrazzo ti ringrazio per la chiarezza e per averci illuminato e fatto capire tante cose che magari non sapevamo è giusto aver dato questa voce lo rifaremo ancora perché poi le istituzioni devono intervenire per far sì che i bimbi possano avere delle famiglie tranquille con amore non essere discriminati perché ci sono due mamme o due papà grazie a Fabrizio Marrazzo per essere state con noi buona serata e alla prossima intervista grazie Fabrizio buonasera a tutti linea la pubblicità grazie a tutti Grazie a tutti